Se vuoi rimanere aggiornato sul mondo di Battlefield, nonché tutto il resto del mondo del gaming, nonché tutti i tuoi canali YouTube a cui sei iscritto, scaricati l'applicazione Awand, un'utilissima applicazione gratuita che potrai trovare all'interno dello store del tuo telefonino, pronta per essere scaricata. Ti permetterà di rimanere aggiornato in tempo reale con notifiche direttamente sul tuo telefono, riguardanti i caricamenti più recenti, le live, i post, i sondaggi e tanto altro ancora. Se vuoi scaricare e installare Awand per il tuo telefonino, il link è nella descrizione del video. L'E3 2018 ormai sta giungendo ai suoi ultimi giorni di conferenza. Le varie software house hanno presentato i loro capitoli in esclusiva e la gente ovviamente si è immersa nel completo hype generale nell'attesa di quest'ultimi. E a mio avviso in questo E3 2018 l'unica conferenza che mi ha fatto veramente storcere il naso è stata quella di Electronic Arts e tutti quanti noi sappiamo il perché. Ovviamente sono state promesse delle cose che non sono state mantenute e anche nel secondo giorno di conferenza che si trattava di Microsoft non hanno mostrato niente riguardante la campagna. Unicamente un trailer di 50 secondi che, come ho detto nella mia video recensione, potevano tranquillamente risparmiarselo. Ma in tutto il polverone che si è alzato in questa discussione riguardante la presentazione di Electronic Arts, beh, c'è una cosa molto positiva. E non sto parlando dei vari gameplay di Battlefield V che sono usciti nelle ultime ore che stanno andando a confermare la qualità del titolo prodotto da DICE. Ma bensì dell'azione che ha fatto Electronic Arts stessa verso chi critica questo titolo. Solitamente è difficile che un publisher si metta in prima linea per difendere un prodotto. Diciamo che quello è il compito della software house che lo sta producendo. L'unica cosa che solitamente fanno i publisher è di assicurarsi che le vendite siano rispettate e che ci sia un ottimo introito generale. La cosa di cui si sono accorti durante la presentazione ufficiale di Battlefield V tenutasi due settimane prima dell'inizio di Electronic Arts Play è di come la gente fosse ignorante. Electronic Arts stessa ha detto queste esatte parole. La gente che si lamenta ha ben due possibilità. La prima è accettare la presenza delle donne all'interno di questo capitolo. Anche perché essendo un videogioco ambientato in una realtà alternativa alla seconda guerra mondiale non si vede dov'è il problema. E loro stessi hanno ribadito il fatto che si tratta di un videogioco. Un'opera di fantasia. Anche se comunque le donne sono state presenti nella seconda guerra mondiale. Che si voglia accettare o meno. Quella è pura libertà di decisione da parte del pubblico. La seconda scelta che invece i critici possono approcciare è di non comprare il gioco. Nessuno li obbliga ad acquistarlo. È ovvio. Quindi se la presenza di una donna all'interno della copertina del gioco o all'interno del trailer sta dando così tanto filo da torcere ai maschilisti di turno beh, avete la risposta davanti a voi. Non comprate Battlefield V. Devo ammettere che nonostante mi abbiano deluso amaramente durante la loro conferenza Electronic Arts ha fatto veramente un gesto unico. Si è messa in campo, ha difeso DICE, ha difeso il titolo, rischiando anche di perdere acquirenti. Ma per loro c'è stata un'unica cosa importante. Difendere l'immagine della donna. E che soprattutto tutti quanti giochino al gioco per quello che è un videogioco. Quindi complimenti Electronic Arts. Per questa volta mi trovi in completa sintonia con la tua linea di pensiero. Quindi che dire ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate anche a voi di questa scelta da parte di Electronic Arts. Ovvero quella di uscire personalmente allo scoperto e di difendere a spada tratta la decisione di DICE e anche l'immagine della donna stessa. Io come sempre ragazzi vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto o un non mi piace se il video non vi è piaciuto. Di iscrivervi al canale per continuare a seguire nei futuri video di Battlefield 5. Di condividere questo video sui vostri social network per aiutare il canale a crescere e alla nostra community di espandersi. E di attivare le notifiche del canale cliccando sulla campanella apposita o scaricando l'applicazione A1D sul vostro telefonino. Per rimanere aggiornati in tempo reale sugli aggiornamenti del canale. Io penso di avervi detto tutto quanto ragazzi. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto e abbraccio. Il vostro Master Doom 93. Winsbeaches. Oh yes. Ciao.